Ben trovati, ieri nel pomeriggio si è diffusa la voce che l'attentatore di Brindisi era stato scovato, era in questura Lecce sotto interrogatorio. Tutti abbiamo gioito di tutto ciò, finalmente la serietà delle forze dell'ordine, della magistratura ha trovato quel disgraziato, quel delinquente, quell'uomo incosciente che ha rovinato la vita a tante famiglie di Brindisi e ha rovinato anche la serenità degli italiani complessivamente. Il giorno dello scoppio delle tre bombule del gas varie sono state le ipotesi, io sinceramente l'ho detto anche all'interno dell'editoriale di Nero su Bianco, ho pensato più che alla mafia all'attentato terroristico che vorreste destabilizzare, perché la combinazione, il giorno in cui passava la corovana antimafia davanti alla scuola che prende il nome della compagna del giudice Falcone, l'anniversario da lì a qualche giorno dello stesso grande magistrato ucciso dalla mafia poteva condurre, non a questa secondo me, perché difficilmente ha creato stragi facendo cadere persone innocenti, tranne nel 1993 quando si voleva destabilizzare ulteriormente il paese a margine dello scoppio di Tangentopoli. Io ho fatto questa similitudine, probabilmente sbagliando, ma ieri noi abbiamo, come dire, ahimè conosciuto anche il nome dell'uomo che avrebbe confezionato gli ordigni, che li avrebbe posti lì e che lo avrebbe fatto per vendetta, perché avendo subito una truffa e quindi un danno economico e non essendo stato soddisfatto dalla giustizia, avrebbe avuto paura di mettere le tre bombe davanti al tribunale che è poco distante dalla scuola e per vendetta ha pensato di ammazzare una sedicenne, Melissa, e rovinare la vita ad altre ragazze. Ora è difficile avventurarsi certamente nel dire è questa l'unica verità, anche se qualche dubbio lo ha anche la magistratura. Perché questo uomo, chiamiamolo così, ha fatto tutto ciò? Si è assunta la responsabilità, ha detto che ha fatto tutto in modo autonomo, ha confezionato da solo le tre bombole assassine. Sì, io penso a questo uomo che forse non avrebbe alcun diritto più di vivere. Penso alle famiglie di Brindisi dilaniate dal dolore e dalla drammaticità di quanto questo disgraziato ha determinato, ma sarà stato realmente solo, avrà avuto dei complici, avrà, come dire, quindi disgraziati e delinquenti come egli stesso, avrà detto realmente tutta la verità. E credo che dobbiamo pensare anche alla famiglia di questo conterraneo, perché è un Salentino, è un uomo di copertino, come sta vivendo la vicenda. Probabilmente anche questa famiglia ha pianto per Melissa, non sapendo che l'uomo disgraziato che l'ha uccisa era proprio all'interno delle proprie quattro mura. A domani.